Lo Stato islamico è più debole? Se l'autenticità dell'ultimo messaggio di al-Baghdadi fosse confermata, sarebbe la prova che l'autoproclamato califo sta cercando di spronare i suoi combattenti in un evidente momento di difficoltà, invitandoli a restare saldi. In una conferenza stampa, il portavoce della coalizione anti-ISI, la guida americana, ha dichiarato che ci sono indicazioni che a Mosul ci siano persone che stanno abbandonando le loro posizioni. Viene riportato che Daesh ha condotto esecuzioni punitive per frenare il fenomeno. Intanto continua più velocemente del previsto l'avanzata delle forze speciali irachene a est di Mosul, l'ultima grande città che l'ISIL controlla in Iraq. Circa 5.000 persone sono state evacuate dal 17 ottobre scorso, quando è stato dato avvio alla riconquista del centro abitato. L'obiettivo principale è evitare che nell'assedio all'ISIL vengano uccisi civili e danneggiate infrastrutture cruciali per questo territorio.